Chiediamo alla Regione e ai gestori un'attenzione particolare per le infrastrutture di trasporto dell'Alto Tevere. Questo il pensiero espresso dalle sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e dall'assessore Rodolfo Braccalenti durante l'incontro che si è svolto in comune con i vertici di Bus Italia. Una sorta di ricognizione sulla situazione dei trasporti e dei collegamenti con il resto della Regione, che ha toccato anche gli aspetti della gestione del patrimonio immobiliare presente nel territorio. Nell'incontro di oggi ha sottolineato Secondi, abbiamo messo sul tavolo gli obiettivi legati agli investimenti del PNRR per l'efficientamento della rete ferroviaria nel tratto Perugia-Città di Castello-Sansepolcro e l'esigenza di una ottimizzazione dello scambio ferro-gomma nella nostra città con lo spostamento alla stazione ferroviaria di Piazza della Repubblica delle terminal dei bus di Piazza Garibaldi anche nella prospettiva del progetto di Piazza Burri. Secondo quanto riferito dal comune, i responsabili di Bus Italia hanno condiviso la proposta di creare un terminal unico per i bus e i treni alla stazione ferroviaria Tifernate e quindi si è dato inizio ad un percorso di confronto per tagliare questo traguardo. I rappresentanti dell'azienda hanno anche preso atto della necessità di intervenire nella stessa stazione per assicurare modalità di sorveglianza a tutela della sicurezza degli utenti. Rispetto al ripristino del collegamento con Sansepolcro e all'ottimizzazione dei trasferimenti lungo la restante direttrice ferroviaria per Perugia ha concluso Secondi, sarà invece necessario che la regione fornisca indicazioni chiare sui progetti di investimento per il miglioramento della rete e sull'incremento della massa assiale dei binari anche in funzione dell'ammodernamento dei convogli.